Buongior ragazze, buongior ragazzi, mi sono letteralmente appena svegliata e ho ancora la faccia super gonfio quindi non avvicineremo troppo l'inquadratura per il momento, oggi voglio fare un get ready with me e un po' non lo so siccome è il primo video make uposo e chiacchieroso dell'anno vorrei anche chiacchierare un po' con voi riguardo il trasferimento, la casa nuova, come mi sento, com'è andata in tutti questi giorni che non ci siamo visti e sentiti quindi vi aggiorno un pochino anche sui miei buoni propositi diciamo, chiamiamoli così buoni propositi del 2021 come sempre inizio idratando le labbra che sono sempre super secche così quando arrivo al rossetto sono belle morbide e idratate e ho utilizzato questo incredible, è bellissimo perché all'interno ha questo fiore molto bello da vedere, peccato usarlo se parlo strano, perdonatemi ma è sempre colpa dell'Invisalign, oggi ho cambiato la mascherina come primer vado ad utilizzare questo di Fenty Beauty e il True Matte Pro Filter e non so se avete notato ragazzi le mie unghie cortissimissimissimissime che non sono abituata a vederle così corte ma avevo veramente bisogno di accorciarle tutte quante perché durante il trasloco cioè si erano, allora già l'ultima volta le avevo accorciate e poi finalmente piano piano stavano ricrescendo e durante il trasloco ragazzi si sono distrutte distrutte e quindi alla fine mi son detta ok tagliamole tutte di nuovo super 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 corte ho fatto una nail art molto easy, molto semplice, questo semi permanente nude un po' più coprente del solito perché ho fatto una passata in più del solito e così adesso le lascerò crescere non lunghissime perché non è proprio stile mio e non è comodo per me, almeno io non riesco ad avere le unghie così lunghe ho provato, lo sapete ma non ce la faccio quindi però un pochino più lunghe di così sì poi fondotinta finalmente ho il colore giusto, è quello di, sto usando il nudissimo di Diego Dalla Palma che è uno dei miei fondotinta preferiti di sempre e questo è il colore 242N per sbaglio avevo preso un colore più scuro e tutti mi avevate detto Nicole è troppo scuro effettivamente era vero, questo dovrebbe essere, questo è il mio colore perché mi ero sbagliata avevo preso il fondotinta che di solito utilizzavo in estate quando era abbronzata quindi comunque lo tengo e comunque appunto mi servirà però non adesso questo è molto più fantasmino comunque ragazzi sono stra felice perché hanno dato neve qui praticamente tutta la settimana e non vedo l'ora dovrebbe arrivare domani e già stamattina ho aperto la finestra e speravo di vedere neve sul balcone però no oggi non c'era ma da domani dovrebbe arrivare da domani che sarebbe perfetto perché appunto mi sono appena trasferita e se arriva la neve adesso perché qui non è che nevichi proprio ogni anno lo so che siamo al nord però siamo comunque sotto al livello del mare qui ad Amsterdam quindi non nevica tantissimo però quando nevica nevica davvero bene almeno l'ultima nevicata che avevamo fatto qui quando stavo con Neil qui ad Amsterdam abbiamo parlato proprio l'altro giorno con Neil è stata veramente epica c'erano tipo due metri di neve e noi ce ne andavamo in bici sulla neve quindi mi auguro veramente che arrivi una cosa simile anche perché comunque è tutto chiuso l'unica cosa aperta sono praticamente i supermercati hanno chiuso negozi tutto quanto qui i ristoranti ormai allora i ristoranti sono chiusi da inizio ottobre ragazzi se non sbaglio era inizio ottobre invece i negozi li hanno chiusi inizio dicembre e qui è tutto 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 chiuso non ci sono limitazioni sulla persona nel senso che non esistono multe autocertificazioni nessuno può darti la multa se esci di casa o appunto non ci sono queste cose qui controlli e cose del genere però hanno chiuso tutto quindi ovviamente è giustamente la gente insomma non se ne va tanto in giro quindi se arriva una nevicata adesso è perfetto perché tanto nessuno avrà la seccatura di non potersi muovere perché tanto c'è nessuno si muove in ogni caso quindi mi auguro veramente che arrivi una di quelle nevicate epocali che ragazzi vedere Amsterdam i canali di Amsterdam con la neve è pittoresco è veramente emozionante ok questo fondotinta mi piace ma bisogna caricare un po' se voglio una coprenza un pochino più decente adesso come correttore uso questo di Wicon si chiama Cover It Concealer è il colore è il 40 no è lo 02 Ivory comunque ragazzi il trasloco io non so nemmeno come ho fatto ma in due giorni sono riuscita a finire tutto vi giuro non ho fatto praticamente nient'altro se non svuotare scatoloni vi giuro non so nemmeno io come ho fatto ma sono riuscita forse perché sono talmente abituata ma sono riuscita appunto in due tre giorni a sistemare tutto svuotato tutto sistemato tutto quanto quindi adesso la casa è al 100% finita non so se farvi l'home tour della casa arredata subito ma avete appena visto l'home tour della casa vuota quindi non vorrei farlo subito però non posso neanche far passare troppo tempo perché comunque la vedrete cioè comunque nei vlog poi la vedete eccetera quindi penso che appunto uno dei prossimi video allora uno dei prossimi video sarà sicuramente i miei regali di Natale che sono anche stavolta in realtà sto aspettando ancora l'ultimo ma forse filmerò già prima e poi appunto home tour della casa arredata adesso che l'avete vista vuota però sono curiosa di sapere secondo voi come ho arredato eccetera un pochino potete già vedere nel mio background però sono curiosa di capire se appunto avete già immaginato più o meno secondo voi come l'ho arredata allora come cipria uso questa di Fenty Beauty ed è la Pro Filter Butter sarebbe il colore andiamo ad utilizzarla per la prima volta quindi non ho la minima idea di come sia questa cipria vediamo comunque la colorazione è molto chiara spero sia trasparente vado prima a fissare il trucco sotto gli occhi il correttore anche sulla palpebra e poi con un pennello ampio per puro caso tra l'altro anche questo di Fenty Beauty vado ad applicare la cipria sul resto del viso tra l'altro sono molto emozionata perché oggi alle 17.30 quindi ancora qualche ora ma alle 17.30 andrà appunto online l'home tour della casetta e sono sempre molto emozionata quando mi mando online i miei home tour perché sono molto curiosa di vedere che cosa ne pensate se vi piace oppure no in realtà però di questa casa già lo so che vi era piaciuta tanto perché quando l'avevo vista appunto nel vlog che ero venuta a visitarla mi avete scritto in tantissimi Nicole bellissima prendi questa quindi un minimo già so che vi è piaciuta però appunto voglio adesso sono molto impaziente di farvela vedere arredata in realtà come terra useremo ho cambiato un po' la disposizione allora useremo questa di MAC che si chiama Beijing Beauty ed era uscita con la collezione estiva se non sbaglio è un'ottima terra perché ha un sottotono molto freddo neutro sì il gatto temer lo vedete sì comunque i gattoni allora i gattoni sono talmente abituati a trasferirsi ragazzi che non appena siamo arrivati in casetta nuova hanno iniziato a fare le fuse erano contenti tranquilli in realtà l'unica cosa che li stressa molto sono gli scatoloni e il disordine invece non appena sono arrivato sistemato tutto si sono tranquillizzati anche loro è stato un po' la mezz'oretta perché sono andata praticamente in taxi io i gattoni e le mie cose di valore che non le do ai tizi del trasloco ma siamo venuti appunto loro hanno portato tutte le cose i mobili e scatoloni eccetera io i gattoni invece siamo venuti in taxi e la mezz'oretta in taxi è stata un pochino diciamo turbolenta perché non non gli piace insomma andare in giro in macchina eccetera poi hanno paura probabilmente che io li porti dal veterinario quindi non hanno particolarmente apprezzato il giro in macchina però ad un certo punto vi devo dire mi son detta aspetta un attimo cerchiamo una canzone un qualcosa che li possa calmare e quindi su youtube ho trovato questa musica rilassante per i gatti ve lo giuro tipo cat relaxing music e ragazzi ha funzionato cioè gattastellina ha addirittura iniziato a fare le fusa in macchina che non era mai successo da dentro la gabbietta ovviamente stanno nelle gabbiette loro però mi sono veramente mi ha stupito questo fatto ed ha aiutato tantissimo quindi la musica non rilassa soltanto noi ma rilassa anche i nostri amici di zampa quindi mi è piaciuta sta cosa quindi si è stato insomma mi è fatto piacere perché li ho visti tranquilli poi già insomma durante il tragitto quindi mi sono tranquillizzata anch'io perché a vedere i gattoni che sono stressati non lo so non sto bene neanch'io quindi poi gli parlavo gli dicevo gattoni andiamo in casetta nuova e quindi insomma adesso sono molto molto tranquilli e molto molto contenti e si sono come già quasi abituati alla casetta nuova non so come sia possibile ma anche per me vi devo dire è stata una sensazione quasi inaspettata perché non appena sono entrata qui mi sono sentita a casa e pensavo di sentirmi a casa anche nella casa precedente però quando sono arrivata qui mi sono reso conto che non era propriamente così perché qui mi sento veramente veramente a casa è come se non lo so e come lo sapete io credo molto nel nell'universo e quindi è come se arrivata qui avessi capito che io qui dovevo starci e non lo so come spiegarla questa sensazione ma forse alcuni di voi la riconoscono magari vi è capitata questa sensazione cioè sei in un momento in cui sai che tutto è come deve essere anche se io sono profondamente convinta che nulla nella vita succeda se non deve succedere davvero tutto quello che succede è perché doveva succedere doveva essere così però qui ho avuto proprio questa sensazione forte di ok è qui che devo stare ok qui sono a casa come blush uso questo di dior è un bel colore naturale e si chiama rouge blush il colore 459 charnel io e la mia pronuncia francese comunque ragazzi buoni propositi per il 2021 e vi devo dire una cosa non ho mai pensato ai buoni propositi per l'anno in cui stiamo appena entrati cioè non lo so non è una cosa che ho mai fatto in realtà più di tanto comunque non seriamente però quest'anno ne ho ne ho di buoni propositi come potete vedere questo blush è super scrivente quindi andiamo un po' a sfumarlo ok adesso vado ad applicare sulla palpebra mobile questo che è un lo chiamano makeup gel è un colore in crema praticamente ed è di makeup forever di questo bellissimo viola intenso è super super pigmentatissimo è meraviglioso adesso dalla naked reloaded vado a prendere questo marroncino scuro freddo e lo applico sopra la mia base viola poi vi parlavo dei buoni propositi allora buoni propositi ragazzi ne ho uno che è molto importante cioè che in quest'anno cosa che già ho fatto però nel 2020 è per me ci può sembrare anche scontato no però per me è importante scegliere di dedicarmi prima a me stessa e poi agli altri mentre nella mia vita ho sempre fatto il contrario mi sono dedicata prima agli altri dimenticando le mie necessità e non ascoltando tante volte la mia vocina interiore è il mio il mio sesto senso diciamo quindi una cosa che voglio fare è appunto cercare di concentrarmi sulle mie sensazioni credere alle mie sensazioni al mio intuito e solo dopo che mi sarò concentrata di più su me stessa potrò aiutare gli altri perché solo dopo che abbiamo imparato a prenderci cura di noi stessi possiamo effettivamente prenderci cura degli altri quindi per me questa è stata una grossa lezione nel 2020 ed è una cosa che poi appunto ho portato avanti ed è una cosa che voglio che mi devo prefissare di continuare a fare nel 2021 quindi concentrarmi prima su me stessa e poi sugli altri al contrario di come ho sempre fatto nella mia vita e poi di ascoltare le mie sensazioni appunto il mio intuito per quanto riguarda youtube invece le mie i miei buoni propositi sono di fare quello che mi sento di fare filmare quello che mi sento di filmare perché secondo me anzi perché mi sono resa conto che la creatività e le cose migliori o i video più belli escono quando o non lo so sento dentro di me il bisogno di filmarli perché essere creativi e avere un lavoro creativo a volte è difficile perché tu magari ti prefissi di fare determinate cose e poi invece ti senti di fare qualcos'altro e quindi anche nel mio lavoro quindi anche su youtube voglio seguire di più il mio istinto e meno quello che penso che le persone vogliano vedere nel senso voglio sempre seguire i consigli che mi date e le richieste che mi fate ovviamente questa è la cosa più importante però voglio anche cosa che non ho fatto tantissimo negli ultimi anni inizialmente su youtube sì e poi negli ultimi anni magari ho cercato più di accontentare tutti però mi sono resa conto che non posso mai accontentare tutti e quindi voglio cercare di esprimere un pochino di più diciamo così la mia creatività adesso sempre da questa palette vado a prendere questo marroncino chiaro caldo che si chiama boundaries e a proposito di boundaries che è una cosa che io ho imparato sto imparando piano piano a come dire a far rispettare sono appunto i famosi paletti di cui già vi ho parlato diverse volte e questa è stata un'altra sfida per me nel 2020 che sto continuando a portare avanti nel 2021 e che è un lavoro è sempre un lavoro un work in progress ma è importante per me che io impari anche a appunto mettere dei paletti vado a riprendere endgame il marrone scuro di prima e lo stendo sulle ciglia inferiori per quanto mi riguarda è appunto importante per me impostare questi paletti perché nelle relazioni inizialmente sono sempre un po' diffidente ma quando mi fido poi della persona mi fido completamente non sto parlando solo in amore necessariamente anche lì però ho imparato sto imparando però non solo in amore ma nelle relazioni in generale diciamo che per me è sempre stato difficile imporre dei paletti nel senso che spesso e volentieri ci sono poi stata molto male perché non cioè perché avevo lasciato via libera all'altra persona che poi irrimediabilmente tante persone non tutte ma tante persone io cerco di circondarmi solo delle persone che appunto questo non lo fanno però tante persone se gli dai un'unghia di un dito si prendono tutto il braccio e pure l'altro e mi sono resa conto che di persone del genere ce ne sono tante persone appunto alle quali tutto sembra essere dovuto che non non apprezzano nulla gli sforzi magari che tu fai o non vedono l'amore che tu hai per loro o il bene che gli vuoi e si approfittano e questa è una cosa che appunto io devo tenere a mente perché se c'è una cosa che io ho imparato nel 2020 è che non tutte le persone sono buone come io penso che siano io avevo questa strana visione del mondo che continuo ad avere perché secondo me dovrebbe essere così però ho sempre ho sempre pensato che le persone avessero buone intenzioni in generale e mi sono resa conto che non è così e quindi devo proteggermi da sola appunto mettendo dei paletti che non necessariamente vuol dire chiudere fuori tutto il resto delle persone però devo avere dei paletti e devo fare in modo che gli altri li rispettino perché nella vita li ho sempre buttati giù io pensando alle altre persone per poi però un po' annientarmi io abbassare il mio livello energetico non so come dirlo però questo è quindi devo per il mio bene appunto imparare a mettere questi benedetti paletti questi boundaries e non penso che sia un caso che anche la palette me lo ricordi tra l'altro mi stavo dimenticando del mio starbucks ragazzi allora io non ho mai bevuto caffè nella mia vita lo sapete lo sappiamo tutti però da quando sono tornata in no in realtà già quando abitavo qui in passato prendevo questi dal supermercato direttamente faccio la spesa in realtà non hanno più quello edizione limitata col cioccolato bianco che era natalizio mamma mia però adesso ho preso questo che è il vanilla bean macchiato che non è niente male sono c'è c'è tutto praticamente tranne che caffè però per me è perfetto perché non c'è quel gusto che non mi piace io non lo so sono l'unica italiana che a cui non piace il caffè italiano e preferisco queste cose che lo so lo so non si possono considerare caffè me ne rendo conto però a me piace questo è appunto strabono sa di vaniglia e adesso ragazzi voglio andare a testare con voi questi pigmenti che mi sono arrivati da stargazer e sono dei duo chrome flakes questo ha un appunto un colore viola che però se andiamo a spostare la luce diventa anche un blu azzurro intenso quindi voglio andare però è la prima volta che uso questo prodotto e sì devo dire che appunto non sono glitter ma sono dei veri e propri flakes quindi dei veri e propri fiocchi di pigmento vado ad applicare prima una colla per ciglia finte che mi farà da base per questi flakes perché ho visto che altrimenti svolazzano ovunque questa è di benefit comunque la invisible lash glue e la picchietto semplicemente sopra il viola ok e adesso vado ad applicare i miei flakes che spero vivamente di riuscire a far appiccicare perché sono è veramente un prodotto strano ragazzi sono molto spessi e svolazzano ovunque è bellissimo comunque appunto proviamoci ok è veramente molto difficile molto molto difficile svolazzano ovunque ma dove abbiamo applicato la colla dovrebbero rimanere appiccicati il resto dovremmo essere in grado di toglierli ok con le salviettine struccanti ho tolto il trucco ed ho rifatto un attimino la base qui in questo punto ragazzi così sono riuscita a togliere tutto il fallout perché non mi aspettavo che fossero così complicati da utilizzare però devo dire che il risultato è molto molto bello questo duo chrome è spettacolare adesso andiamo a sfumare naturalmente tutto l'ombretto quindi sotto cioè ho addirittura pezzettini di questi flakes nei capelli vabbè che tra l'altro ragazzi qui hanno chiuso anche parrucchieri nail salons tutto 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 chiuso quindi assolutamente non posso andare dal parrucchiere in realtà non è che ho necessità di andare dal parrucchiere ho le extension che però sono perfette mi avevano detto di dover tornare dopo sei settimane otto sei settimane e però in realtà onestamente non c'è neanche bisogno e anzi adesso li faccio un pochino crescere perché mi crescono talmente in fretta che non riesco a mantenere un taglio corto perché crescono velocissimi ma una cosa volevo andare a fare dal parrucchiere ed andrò non appena riaprono appunto penso che riaprono il 18 di gennaio tutto quanto qui i negozi eccetera almeno si spera teoricamente dovrebbe essere il 18 ma qui ogni secondo martedì c'è la conferenza stampa del primo ministro quindi presto diranno che cosa hanno deciso sperando sperando che la situazione stia andando in meglio e quindi appunto non appena riaprono io vado a fare semplicemente non i colpi di sole niente niente perché insomma non mi interessa anche se si vede un po' del mio biondo che è più scuro rispetto ai colpi di sole ma non è una cosa che mi dà fastidio e anzi mi piace se c'è un po' l'effetto sfumato non lo so però voglio assolutamente andare a fare un tonalizzante perché secondo me un pochino si vedono ancora i riflessi rosa che ormai sono riflessi aranciognoli tipo qua secondo me non lo so forse li vedo solo io perché sono fissata però voglio andare appunto a fare un tonalizzante freddo che mi toglie questo questo sottotono aranciognolo che mi è rimasto del rosa poi vado a prendere angel free che è questo bellissimo illuminante e vado ad applicarlo soltanto nell'angolo interno ma ragazzi ditemi che cosa avete fatto voi a Natale che cosa avete fatto a Capodanno se avete passato bene so che sono state delle festività purtroppo molto diverse rispetto a quelle che avremmo voluto però le cose sono così quindi dobbiamo accettarle e cercare di fare il il meglio di cercare di trovare il meglio di ogni situazione secondo me quindi anche per me non è stato semplice non poter tornare in Italia perché avrei tanto voluto passare il Natale con la mia famiglia con i miei genitori e anche con i miei amici in realtà o perlomeno vederli per un brindisi prima della cena eccetera però non è stato possibile quest'anno ma mi ritengo comunque molto fortunata perché abbiamo capito tutti penso in quest'anno che la cosa più importante è la salute oppure chi ancora non l'ha capito spero che lo capisca perché appunto quest'anno un'altra cosa che ci ha insegnato anzi l'anno passato è che appunto la cosa più importante di tutte è la salute quindi il fatto che io non mi sia ammalata il fatto che ok battiamo eccetera il fatto che io non mi sia ammalata il fatto che appunto io sia in un posto meraviglioso eccetera mi fa sentire talmente fortunata che non posso lamentarmi perché non non posso viaggiare non sono potuta andare dai miei che teoricamente avrei anche potuto in realtà comunque adesso ragazzi eyeliner e matita come eyeliner uso il superhero liner di it cosmetics e come matita useremo questa che è di we makeup e si chiama only eye pencil vediamo com'è se stendo l'eyeliner sopra questi glitter non è semplicissimo andare a colorare sopra questi glitter però secondo me il risultato non è niente male matita nera all'interno sia della rima inferiore che di quella superiore quindi mi lacrimeranno gli occhi lo sappiamo già è sempre così il fatto che soffro tantissimo il solletico e soffro il solletico anche all'interno della rima nell'occhio non è colpa mia ma mi fa un solletico terribile inizialmente anni fa quando avevo appena iniziato truccarmi non riuscivo a tollerarlo adesso lo tollero però mi lacrimano gli occhi ok ragazzi fatto mi stanno lacrimando tantissimo gli occhi ma sono l'unica che ha questo problema perché non è cioè di solito capita a chi sta iniziando a truccarsi e quindi non è abituato ma io mi trucco da sempre eppure ho sempre questo problema vabbè cin adesso voglio andare oggi ad applicare le ciglia finte che non applico da secoli ma visto che le tendenze trucco sono molto incentrate sugli occhi quindi occhi molto carichi a volte colorati magari una linea di eyeliner colorata eccetera e si concentra meno il make up sulle labbra viste mascherine ovunque appunto ho caricato un pochino di più gli occhi e voglio andare ad applicare anche le ciglia finte e queste sono di mesauda sono le gold christmas quelle uscite con l'ultima collezione natalizia vediamo se dobbiamo tagliarle oppure se la lunghezza va bene no dovrebbe andare bene quindi applichiamo la colla per ciglia finte che è quella che abbiamo usato poco fa sulla palpebra comunque ragazzi dovete assolutamente consigliarmi nuove serie tv perché ho finito the crown o almeno ho finito tutti gli episodi non so se poi non usciranno degli altri della quarta serie o se è finita così comunque ho finito tutte quante le serie tv ragazzi aiutatemi a trovare una nuova serie tv possibilmente cose di fantasmi ma anche no perché the crown non c'entra nulla con il paranormale alla fine mi è piaciuta tantissimo quindi se avete qualche consiglio vi prego aiutatemi perché non ho più niente da guardare vi dicevo intanto facciamo asciugare la colla per le ciglia finte una trentina di secondi vi dicevo che sarei anche potuta scendere per Natale però sarei dovuta scendere prima dell'obbligo di quarantena in Italia che era dal 21 se non sbaglio 20-21 e poi sarei dovuta rimanere fino a quando l'obbligo fino a quando la zona rossa si sarebbe poi sarebbe finita quindi dopo il 7 e quindi per me stare via dal 20-19 all'8 era un pochino troppo anche perché avevo il trasloco quindi non è stato fattibile ma in realtà amiche miei sono tornate in Italia però appunto io ho fatto così perché dovevo traslocare e dovevo preparare un sacco di roba e non era il caso di appunto fermarmi in Italia per così tanto tempo quindi quest'anno è andata così praticamente ok abbiamo applicato le ciglia finte si vedono le mie ciglia chiare sotto ma tanto troppo che applichiamo il mascara ok come mascara vado ad applicare questo di Rimmel London e si chiama Wonder Luxe Volume un bellissimo bellissimo packaging rosa metallizzato e andiamo questo appunto questo scovolino preciso in gomma che secondo me è l'ideale quando devo appunto mimetizzare le mie ciglia con le ciglia finte e vado semplicemente ad applicarlo sulle mie ciglia non su quelle finte quindi mi fermo dove finiscono le mie che tra l'altro ragazzi lo sapete che mi è venuta un po' di nostalgia dell'extension in realtà non mi fa impazzire l'effetto dell'extension e quei grumoletti che ti fanno l'extension sulle ciglia sono la cosa più fastidiosa ed è difficilissimo non stare lì tipo a tirarle quindi non penso che le rifarò però mi manca un po' la lunghezza che avevano le mie ciglia quando quando avevo l'extension perché ovviamente con il lash lift sono si sembrano più lunghe perché sono comunque rialzate però non sono più lunghe cioè sembrano quindi un pochino sì sono più lunghe danno un po' l'effetto di ciglia più lunga perché ovviamente sono piattite e sono piegate verso l'alto però non è proprio la stessa cosa ed extension per quanto riguarda questo le ciglia finte sono imbattibili però io che non ho nessunissima voglia di applicare ogni giorno le ciglia finte però mi ricordo che nel periodo pre extension alle ciglia applicavo effettivamente ogni giorno le ciglia finte quindi in quel caso mi son detta ok a questo punto invece che applicare ogni giorno le ciglia finte andiamo direttamente a fare le extension però un pochino un pochino vi devo dire che mi mancano le extension alle ciglia quindi non lo so non escludo in realtà di tornare a farle non lo so non lo so voi che cosa ne dite preferite lash lift su di me extension alle ciglia meglio niente non lo so ultimamente mi ho preso questo pallino forse perché ho visto un paio di video di un paio di anni fa e l'extension forse in videocamera o comunque mi piacevano quindi allora ma fatemi sapere che cosa ne pensate voi perché è solo un'idea ovviamente non credo che le rifarei perché appunto il fatto di avere quei grumoletti erano così fastidiosi però erano anche molto belle adesso sopracciglia vado ad utilizzare la mia gimme brow di benefit questa è colorazione 2 si 2 di solito preferisco utilizzare la 2.5 però volevo provare a lasciare le sopracciglia un pochino pochino più chiare oggi così voglio sentire anche che cosa ne pensate perché in molti mi dite no Nicole le fai troppo scure provo a lasciarle un pochino più chiare e quindi oggi sono un pochino più chiare vediamo com'è il risultato mi fido sempre tantissimo del vostro parere quindi fatemi sapere se sto meglio con le sopracciglia un pochino più chiare o un pochino più scure se avete se avete la laminazione alle sopracciglia il gimme brow è fantastico perché non solo telecolora e ti dà ovviamente definizione ma ti pettina anche le sopracciglia benissimo e quindi fa questo doppio effetto pettinino e colore ovviamente come sempre le mie sopracciglia non sono uguali non sono uguali una è non lo so una è più corta l'altra è più lunga una è più folta l'altra meno folta quindi ve lo dico sempre le sopracciglia non sono gemelle sono teoricamente sorelle però le mie sono cugine di terzo grado e come rossetto vado ad applicare uno dei miei preferiti del periodo che è questo di Wicon ed è il long lasting liquid lipstick si non c'è il nome del colore ma è la colorazione 72 questo bellissimo nude rosato che indossavo anche nel video di ieri tra l'altro è lo adoro secondo me è un colore splendido il perfetto nude rosato almeno sulla mia carnagione lo adoro tra l'altro mi avete detto in tantissimi che sto molto meglio senza il filler al labbro superiore adesso che sono andata a scioglierlo quindi vi ringrazio in realtà è rimasto ancora un pochino un pochino di filler secondo me e andrò a fare un secondo round di ialuronidase che è appunto l'antidoto all'acido ialuronico per togliere eventuali perché secondo me qui un pochino è rimasto quindi voglio andare proprio a toglierlo completamente però vi ringrazio perché effettivamente si vede molto la differenza e quindi in realtà non lo so non so neanche perché l'ho fatto al labbro superiore perché mi piace di più senza comunque questo è il bello dei filler che poi puoi andare appunto a rimuovere completamente il prodotto anche se in realtà appunto non se ne va sempre completamente negli anni però appunto sono molto più contenta così e quando andrò a rimuovere ancora un pochino quello che è rimasto secondo me sono ancora più contenta quindi mia family questo è quanto vi ho fatto un po' un mega aggiornamento un po' su tutto chiacchiere così comunque questo è quanto per il nostro make up di oggi che a me piace moltissimo e soprattutto i toni del viola sugli occhi stanno andando tantissimo in questo periodo quindi fatemi sapere che cosa ne pensate naturalmente se questi pigmenti vi piacciono perché a me fanno impazzire anche se sono antipatici da applicare quindi mia family questo è quanto appunto per il video di oggi vi mando un bacio grandissimo come sempre vi abbraccio forte forte aspettate che mi avvicino fortissimissimissimo e noi ci vediamo domani sempre puntuali alle 17.30 penso che domani ci sarà il video in cui spacchetto con voi i miei regali di Natale che sono pazzeschi preparatevi a domani ciao ciao